Se la squadra non va, non si mandano via i giocatori, ma l'allenatore. È decisamente convinto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, nell'affermare che le motivazioni di scarsa funzionalità del piano di zona Salerno 8 sono da attribuire al direttore dell'ufficio di piano, Mario Gliaruso. Che il direttore del piano di zona Salerno 8 racconti il malfunzionamento per colpa di altri mi sembra pretestuoso, ha dichiarato Coppola ai microfoni di un emittente locale. Io penso che se il piano di zona non va, bisogna cominciare a chiedersi se il direttore ha fatto un buon lavoro e visto che il direttore critica i comuni, io credo che la critica bisogna farla a chi dirige. Il comune di Agropoli versa al piano una quota annuale di 220.000 euro e ha un arretrato di circa 340.000 euro, poco più di un anno. Gliaruso dice che la cattiva gestione del piano di zona va attribuita ai comuni. Allora mi viene da pensare che forse ho fatto bene a non pagare, perché penso che la percentuale di incidenza del mancato pagamento dei comuni verso il piano non corrisponde ai debiti o ai pagamenti che deve fare il piano di zona. Perché non si domanda a Gliaruso come mai la regione Campania non ha versato la quota, il ministero non ha versato la quota? Sarà per il fatto forse che le rendicontazioni che produce quell'ufficio dove Mario Gliaruso e direttore non ha fatto le cose nel modo giusto? Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, conclude con l'auspicio di un incontro diretto evitando polemiche ma cercando le soluzioni.